signori e signori buonasera questa sera voglio provare a suonare un'altra volta in sintonia con il mio amico grandissimo maestro che ha pubblicato più di 5000 video su youtube conosciuto in tutto il mondo Paolo Filippi delle mie note in sintonia con lui perché quando suona il suonare meraviglioso bandone mi sento trasportare mi sento mi sento di suonare con lui di commentare la sua tristezza con la mia chitarra con la spalla mancante buonasera che senso ha tutto grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.